Tempo di bilancio di fine anno per gli industriali pesaresi. Oggi nella sede provinciale di Confindustria si è tenuto il consueto summit di imprenditori e amministratori del territorio volto ad analizzare prospettive dell'anno che verrà sulla base dell'analisi del 2022 del comparto pesarese in quello che è stato anche il primo anno di Alessandra Baronciani al vertice dell'associazione con oneri e onori di essere la prima presidente donna in 75 anni di Confindustria. Il primo anno l'ho finito il 23 di novembre quindi l'abbiamo appena svalicato, siamo nel secondo. Bilanci per me personalmente è stato un anno positivo, lavorare in Confindustria è impegnativo ma è di grande formazione e sono molto contenta di ricoprire questo incarico che avrà altri tre anni quindi avrò modo di crescere ancora. Riflessioni su un 2022 inevitabilmente segnato dalla guerra russo-ucraina e da tutto ciò che ne è derivato sul fronte economico e inflattivo. Pensavo di avere un anno facile dopo la fine del covid e della pandemia c'era una grande ripresa economica noi l'abbiamo definito un piccolo boom economico e invece è arrivata la guerra e soprattutto la crisi energetica l'inflazione cioè che è il peggio che può capitare all'impresa e all'industria. Abbiamo dovuto affrontare questi temi, grazie a Dio eravamo già pronti sul fronte delle energie perché noi abbiamo un consorzio energetico che funziona molto bene con tanti associati, hanno lavorato moltissimo, abbiamo avuto anche qualche piccolo problema affrontato e risolto e oggi siamo soddisfatti perché tutti gli associati sono riusciti ad avere un contratto che non era cosa facile perché i fornitori di energia non erano più disponibili a forma dei contratti poi chiedevano fiduzioni, depositi in denaro, contante che per le aziende diventa un problema in un momento così poi col calo delle vendite e quindi diciamo che alla fine come bilancio nonostante tutto noi siamo soddisfatti, ci siamo riusciti. Caro energia, inflazione ma anche asset infrastrutturali, dalle strade a quegli impianti funzionali che mancano e che spesso sono frenati dal pregiudizio dell'opinione pubblica. Difficoltà e prospettive analizzate dalla Presidente Baronciani ma anche dal collegamento da remoto del parlamentare Mirko Carloni. In 2023 staremo a vedere cosa succederà, si prevede come lo dicono anche tutte le televisioni un calo, c'è una piccola recessione, se però dovesse restare anche come il 2022 possiamo anche accontentarci. Certo l'obiettivo, come ho detto prima, dell'inflazione al 2 è stato spostato in avanti per cui dovremmo aspettare il 2025. Hanno aumentato nuovamente i tassi di interesse e parlano di un ulteriore aumento perché questo è previsto e quindi vedremo un po', insomma, anche se nel frattempo abbiamo sentito parlare finalmente in Europa un tetto al prezzo del gas e questo è molto positivo. Il 2023 sarà poi anche figlio di quelle che saranno le decisioni del nuovo governo Meloni. Vedremo, adesso appena iniziato, ovviamente ha una legge di bilancio appesantita molto dai costi energetici quindi lo sforzo maggiore l'ha fatto lì anche se Confindustria chiede, come è ovvio, che si intervenga sul salario netto dei dipendenti perché è l'unico motore dell'economia se con l'inflazione al 10 non aumentiamo il potere d'acquisto, si ferma, l'economia si ferma.